come è andato questo pasto? come è andato questo pasto? come è andato questo pasto? buongiorno come è andato questo pasto? guarda io non ho più fame perché veramente sono allucinato ho sonno una cosa allucinante è andato bene abbiamo messo due ore e mezzo c'è un cane che ci osserva dalla collinetta che sta dicendo quei due coglioni cosa stanno facendo lì vicino al fuocherello o meglio il fumo poi il cane stanno citato per l'alto sento qualcosa sotto i denti tipo terra si ma fammi capire ma fa delle cose che hanno uscino all'angob ma tu che ne sai che è un cane? perché ho la vista molto sviluppa mamma mia come sei vicino? ragazzi dimetto che ho questa faccia è un suo cadavere perchè non sono stato né in mare né in piscina quest'anno quindi ve l'ho mandato dal video sono un bel ragazzo se volete trovarmi su facebook Ernesto Canneva se siete gay volete aggiungermi Ernesto Gay mi raccomando mi raccomando ti rispondo contatto da voi no è perché sei fidanzato Cri chi sei stato? che è successo? va bene va bene intendivo che lo fumicherei cioè da notare il fumo che caccia tutto su di me non mi riprendere mentre soffri sopra tutto di profilo che si vede che il suo nasone che è che sta condannato io devi essere affumicato il cane intanto che dorme eh? intanto io mi alzo così ma che è ma che è cazzo mi ha dato un cane che mi ha fatto ogni tanto col po' il ginocchio perchè un cane mi ha fatto un po' il ginocchio? si quando vuole qualcosa mi fa con le zampette sul ginocchio e poi all'improvviso fa ta 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 pubblicità al mio cane ho sempre dato oggi cibi migliori beh di questo ma è morto lo stesso allora gli potevo dare anche cibi non puoi tanto moriva lo stesso ahhhh fabbio non fare così sennò poi magari sudi ti viene il mal di gola è morto si comunque tra parentesi la dentro si è aranciata e non fare pubblicità occulta non far vedere che quella birra della Peroni bella poche raccoli no 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 perchè si è città proprio ma non lo sai che mi fa più fumo no non sai che mi mi prendi queste cose che mi faccio ristrapolare ma tu non lo sai che mi faccio ammazzo guarda che le ceneri fanno bene la pelle soprattutto in testa non li uofano va bene è finita la seconda telecronica dopo la prima dopo che mia madre scoprirà che ho preso la gradiglia del forno nuovo che non abbiamo mai usato che si è fatta nera la pentola totalmente nera mi caccerà di casa mi ucciderà lo saprete nella prossima puntata dai Ernesto e vai e vai e vai guarda 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 guarda